Il migliore investimento che ho fatto questo mese sul mercato delle criptovalute lo vediamo oggi, ne ho già parlato in un webinar molti di voi sanno già quello che sto per dire ma oggi ragazzi vi spiego tutte le logiche che ho utilizzato il risultato che ho ottenuto e come potete prendere parte a questo tipo di investimento come sempre non sono consigli finanziari ma è un modo di vedere il mercato è stato un modo per poter agire sui mercati ed è il mio ragazzi quindi non è uguale per tutti non dovete copiarmi lo sapete non do consigli finanziari però secondo me si può imparare tantissimo capendo come poter scovare le opportunità che il mercato delle criptovalute ci dà ogni tanto ragazzi il mercato delle cripto è una stripping tiger cioè è una tigre dormiente ogni tanto quando si alza e fa un salto ragazzi ci dà delle opportunità di business incredibili per chi è un piccolo investitore per chi si sta approcciando per la prima volta agli investimenti the sleeping tiger l'ho soprannominata così ragazzi la blockchain e il mercato cripto non è superabile da nessun investimento oggi parleremo dell'ecosistema cripto.com della sua moneta della sua criptovaluta cro e vi spiegherò che cosa ho fatto io nelle scorse settimane come mi sono adoperato e poi vi spiegherò anche come poter entrare in questo mercato come poter agire anche voi e quale logica soprattutto ragazzi mi soffermo su questo punto bisogna utilizzare quando si decide di fare un investimento in questo settore ma prima di andare avanti vi chiedo di iscrivervi al canale ragazzi se ancora non l'avete fatto e poi una cosa questa volta la dico per scrivere questo video ci ho messo due giorni perché non è assolutamente semplice sintetizzare tutti quelli che sono i miei ragionamenti da investitore e da trader in un video di 10 minuti vi assicuro è difficilissimo perché ci sono tante piccole sottigliezze tante cose che vanno esplicitate dette nel modo giusto perciò vi chiedo un grande pollice ragazzi fatemi sapere se vi è piaciuto questo video se vi piace questo video tirando su i pollici e poi come sempre nei commenti quello che pensate perché tutti i dubbi che avete in testa per me sono anche una fonte di ispirazione mi aiutano a darvi una mano mi aiutano a dare più valore a tutti quanti oggi tratteremo 5 punti che parlano del progetto cripto.com e vi spiegherò perché ho deciso di fare i miei investimenti una decina di giorni fa su questo progetto portando a casa uno dei più grossi profitti che ho fatto questo mese sul mercato criptovalute intanto già vi accenno che chi di voi volesse approfondire tutta la strategia che ho utilizzato ragazzi nel mio canale telegram trovate un webinar che ho realizzato una decina di giorni fa dove spiegavo tutto quello che andava fatto e dove dicevo tutte quelle che erano le mie idee in maniera estremamente approfondita sono quasi un'ora di webinar ragazzi quindi lo trovate sul mio canale telegram che è gratuito il link è in descrizione potete registrarvi al canale accedere al canale trovate pinnato su il webinar in questione e il video la password per accedere lì se volete approfondire troverete una serie di riflessioni e di argomenti estremamente più approfonditi cripto.com è un ecosistema di natura cripto sul lato finanziario ci permette di accedere al mondo criptovalute beneficiare di tutte quelle che sono le varie opportunità di questo mondo ragionare in termini di criptovalute io l'ho definita la cripto mentality e poi successivamente utilizzare anche le criptovalute in diversi modi uno per fare profitto per fare investimenti e allo stesso momento poi ragazzi utilizzare le criptovalute per la spesa per andare a comprare qualsiasi bene di natura reale nel mondo moltissimi voi spesso mi chiedono come faccio a entrare nel mercato delle criptovalute cripto.com è il modo migliore in questo momento perché poi questo mercato evolve quindi cambia di continuo ma in questo momento il miglior modo per accedere al mercato cripto se non avete mai comprato bitcoin è facilissimo registrarsi all'app c'è un wallet per la sicurezza anche dei vostri bitcoin una volta che li avete comprati ma poi c'è anche un super bonus di 50 dollari ragazzi che vi danno e vi lascio anche il link in descrizione ragazzi se utilizzate il link chiaramente sostenete anche me vi registrate compilate i dati poi andate a fare buy con l'applicazione e potete acquistare bitcoin senza fee io ho spulciato ovviamente tutto quello che c'era da fare prima di parlarvi di questa applicazione perché nel momento in cui di solito mettono 0 fee per la carta di credito poi quando andate a comprarla ci sono dei costi impliciti in pratica quando andate a comprare poi effettivamente bitcoin ve lo vendono più caro di quello che è sul mercato e questo è un costo che si definisce implicito invece in questo caso per quanto riguarda crypto.com non è venduto più caro è venduto più o meno allo stesso valore di mercato non è proprio preciso ragazzi ma facendoci conti il sovrapprezzo che pagate bitcoin perché comunque qualcosina in più la pagate è di circa lo 0 1 per cento ragazzi che vi assicuro è una percentuale esigua ridicola per il mercato cripto quasi un semplice spread denaro lettera quindi non ci sono commissioni ragazzi ed è vero strano ma vero una volta entrate all'interno di questo ecosistema si passa in un'altra fase cioè iniziate a comprendere cosa significa il mercato delle criptovalute quello che mi è piaciuto molto di questo ecosistema è proprio il fatto che vi catapulta all'interno di una serie di servizi di una serie di meccanismi che sono alla base del mondo criptovalute cioè non è un modo in cui vi dice ok entrate qui non fate niente ciao no ci sono una serie di cose che potete fare e che sono effettivamente parte integrante del tessuto criptovalute sia da un punto di vista di investimento ci sono diversi modi in cui poter operare per ottenere del profitto sia da un punto di vista di utilizzo delle criptovalute perché voi potete richiedere la carta di pagamento visa con la quale potete andare in giro a usare le vostre criptovalute pagando il caffè o quello che vi piace di più vero che ci sono tante cose da leggere da studiare ma è anche vero che questo è il mondo cripto e dovete conoscerlo il mondo cripto non potete entrare facendo semplicemente l'acquisto di bitcoin sperando che domani sal non serve a niente una cosa del genere soprattutto non è una vera adoption di bitcoin del mondo cripto non è un partecipare a questo progetto perciò ho apprezzato tantissimo il fatto che si potessero fare una serie di cose all'interno di questa app perché io ho fatto un investimento su questo ecosistema e ho fatto il più grosso profitto del mese in soli dieci giorni perché ragazzi quando un business è di grande valore il mercato se ne accorge e se sapete dove mettere le mani vi assicuro che il mercato vi premia e vi premia anche moltissimo dopo aver fatto una serie di analisi relativamente a questo business che ho anche riportato nel famoso webinar di cui vi ho parlato prima sono andato a fare un buy ragazzi sulla cro che è la cripto di cripto.com una delle due perché ne hanno due ragazzi una è la mco è una criptovaluta che viene utilizzata per ottenere appunto la carta ragazzi ma non è stata oggetto del mio investimento per una serie di motivi che spiego nel webinar intanto ho deciso di prendere parte a questo tipo di investimento sul cro perché il mercato quindi l'analisi tecnica mi aveva dato il timing mi aveva dato un'inversione di trend importante sia su usd quindi su dollari sia su bitcoin perciò ho preso una parte dei miei bitcoin e ho comprato il cro questo perché perché all'interno dell'applicazione è possibile mettere il cro in stake che è un modo di fare profitto semplicemente prestando soldi all'azienda in questo caso sono criptovalute il profitto che si ottiene mettendo in stake il cro è elevatissimo ragazzi intorno al 18% addirittura se li vincolate o al 14 se li tenete liberi il cro ragazzi voi potete tenerlo in stake ma è flessibile cioè voi potete anche richiudere questo stake quindi toglierlo dalla prestito e venderlo cambiarlo con euro dollari o bitcoin immediatamente questo è fondamentale perché costituisce un contratto di loyalty tra voi e l'azienda se voi prestate ad un'azienda del denaro e vi vincolano quella somma avete perso potere nei confronti di quell'azienda perché una volta che voi gli avete dato tutto quello che volevano da voi che potere avete quindi se loro vi scammano tra virgolette falliscono scappano se ne vanno non potete fare più nulla invece se esiste la possibilità di avere un contratto flessibile cioè che io posso toglierlo immediatamente e chiudere c'è un contratto ragazzi fra voi e l'azienda di reciproco rispetto questo è fondamentale perché sono delle regole di business diciamo indicano quando un management può essere più serio di altri ragazzi sapete bene che nel settore cripto nessuno ha la palla di vetro quindi questo è un settore in evoluzione se un'azienda fallisce è abbastanza normale però sicuramente queste cose le possiamo valutare e sono sinonimo di management che vale management che sa dove mettere le mani per riassumere quindi le carte che stanno distribuendo in europa evidenziano un business in crescita appena lanciato ragazzi che vuole essere sostenuto anche dall'azienda grossi earnings per quanto riguarda la cr o quindi cr o la cripto valuta relativa che andavo a comprare vingevano acquisto di questa cripto valuta terzo punto sul cr o si fonda tutto il business di cripto.com per cui loro la terranno come un piccolo batuffolo da curare ragazzi come una piccola pianta un piccolo bonsai è presumibile che l'azienda non voglia far fallire questa cripto valuta non voglia buttarla giù ma bensì dargli molto spazio perché da questa cripto dipende l'intero business l'idea generale che univa questi puntini è sempre la stessa quando esiste un'opportunità di fare profitto ragazzi buona con un'azienda solida al di sotto di questa opportunità vi assicuro che il mercato se ne accorge e quando il mercato se ne accorge colma quella opportunità arrivano massicci ingressi di liquidità massicci ingressi di soldi su quello strumento finanziario che fanno schizzare il prezzo e perché no lo mandano anche in bolla ragazzi ma a noi interessa anche questo che vada in bolla perché se siamo investitori quello che ci interessa è che il mercato sale salga il più possibile perciò vi assicuro che quando c'è un'ottima azienda un ottimo business un'ottima opportunità di fare profitto arrivano gli squali arrivano le balene ed è così che è successo sul cro che è incrementato ragazzi del 55 per cento dopo che io l'ho acquistato dopo aver fatto questo investimento non sono riuscito a farlo prima questo video su youtube perché appunto mi ci voleva molto tempo ragazzi allora ho deciso di fare prima il webinar per avvisare tutti gli investitori quelli più accaniti i miei iscritti all'academy e quelli iscritti gratuitamente sul canale telegram proprio per dirgli attenzione questa opportunità di business è molto ghiotta se ne è accorto anche il mercato e agli valori attuali siamo a più 55 sul mio investimento cosa farò io ho chiuso il mio investimento assolutamente no in questo momento non l'ho ancora chiuso ragazzi perché tutte quelle motivazioni che mi hanno fatto fare questa operazione non sono venute meno in questo momento la prima cosa che farò per monitorare il mio investimento è guardare l'analisi tecnica e il grafico perché il grafico se ne accorge prima di qualsiasi cosa nel momento in cui io dovessi assistere a un'inversione di trend di questo strumento potrei decidere di iniziare a chiudere il mio investimento la mia operazione però guarderò anche il business dell'azienda in questione ragazzi perché un più 55 per cento in dieci giorni non è da sottovalutare quindi è probabile che questo indichi anche un azienda un settore uno strumento che può dare veramente grandi soddisfazioni e mi regolerò di conseguenza terremo questo cr o questo strumento sotto l'ente di ingrandimento nella mia academy di trading on trovate sempre il link in descrizione e vi informerò quando avrò chiuso questa operazione comunicazione bene ragazzi siamo arrivati alla fine del video spero di avervi dato tutte le informazioni più importanti per chi di voi volesse approfondimenti scrivetemelo nei commenti andatevi a guardare il webinar per oggi è tutto come sempre e io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao